Ost 2019 ci troviamo allo stand di Alfa Forni, un'azienda italiana che si trova nel Lazio e che è attiva da ben 42 anni nel comparto. Siamo in compagnia di Andrea Lauro, il responsabile per la progettazione e lo sviluppo dei forni in azienda. Andrea, benvenuto. Grazie. Parlaci di quello che presentate oggi a Ost 2019. Alfa Forni presenta a Ost 2019 il forno Zeno, un forno elettrico napoletano che arriva a 500 gradi e il forno Next, un forno ibrido gas elettrico, quindi con il piano riscaldato elettricamente e la volta riscaldata con il gas. Tutti e due i forni hanno una funzione di regolazione della temperatura e controllo della temperatura stessa che ovviamente facilita il pizzaiolo nella sua gestione del forno e della pizzeria. Avete tra quelli esposti tantissimi altri modelli. Qual è quello di punta di Alfa Forni? Il forno di punta è il forno quick che vedete appunto in dimostrazione. È un forno a legna, un forno che ci ha dato grandi soddisfazioni perché è molto versatile quindi riusciamo a posizionarlo in hotel, ristoranti, pizzerie e anche rooftop. Addirittura ce n'è uno su una barca in Sardegna che fa le pizze per i più fortunati proprio nelle baie sarde. Come nel nostro caso, noi alle spalle abbiamo un forno street food. Sì, appunto. Oggi siamo anche in compagnia di Street Foodi, partner Alfa Forni. Qui alle nostre spalle c'è il 4 Pro, un forno appunto versatile che è l'unico forno forse che può andare su una petta pizza e siamo molto contenti di ospitarli e siamo molto contenti di avere questa partnership con loro perché fa sì che la pizza vada nel mondo grazie a quest'ape fantastica. Ma anche grazie a Franco Pepe, il vostro testimonial, che ha scelto uno dei modelli di punta di Alfa Forni per poterlo inserire nei suoi locali. Sì, vero. Franco è un nostro amico e un nostro partner ha scelto il Forno 4 Pro, che è sempre questo che vediamo alle spalle, per la sua pizzeria autentica, una pizzeria molto particolare dove Franco fa show cooking davanti a otto persone, otto fortunati che riescono ad avere proprio una serata insieme a lui. E allora, per tutti coloro che si trovano dall'altra parte e desiderano avere maggiori informazioni sui vostri forni, sulle modalità di acquisto e o di finanziamento nel caso in cui vogliano appunto prendere qualcosa di più impegnativo, qual è la casella di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? Allora, potete scriverci a infochiocciolalfaforni.com Andrea, grazie per la collaborazione. Grazie a voi.